ricerca indici 1967 1986 la stessa cosa andremo entreremo nell'indice del 1967 1986 in questo caso non troviamo anno ma troviamo periodo dove noi andremo a selezionare sul punto di domanda il periodo che a noi serve per la ricerca se la ricerca deve essere fatta come anticipato prima un catastro del 1971 andremo su indici schedario 70 73 a selezionare con doppio clic e andremo a mettere anche in questo caso la prima lettera del cognome e iniziale alternativa la prima e seconda lettera del cognome andremo in ricerca appariranno le due righe dove noi andremo a selezionare passando su documenti visualizza documenti attendiamo come nei libroni vediamo l'anno in cui è stato depositato il progetto o licenza edilizia l'intestatario ed il numero della pratica questi dovranno essere citati nella domanda di accesso a t